Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, insieme con l'Unità di Crisi, ha incontrato i rappresentanti degli operatori del comparto del turismo e i rappresentanti del mondo della cultura e degli spettacoli della Campania. Per il turismo la complessità di questo mondo non può basarsi solo sul sostegno della regione, ma anche e soprattutto su quello del governo nazionale e dell'Europa, ha detto il governatore. Nel nostro piano economico e sociale ci sono già aiuti agli stagionali. Sappiamo benissimo che non basta, per questo abbiamo raccolto le diverse istanze per agire sul doppio fronte regionale e nazionale. Quello che si può fare intanto, a breve termine, è lanciare una campagna promozionale per fare della sicurezza il brand per l'accoglienza, insieme alle straordinarie bellezze naturali e culturali della Campania. Lo faremo d'intesa con gli operatori del settore, sia a livello nazionale che internazionale. Continuando il lavoro, sempre di ieri, sono state raccolte le istanze nel mondo della cultura e degli spettacoli, settore peraltro strettamente legato anche al turismo. Il 25 maggio, ha detto De Luca, è prevista la riapertura di alberghi e strutture ricettive, il 15 giugno la riapertura di cinema e la ripresa delle iniziative di spettacolo. La regione ha annunciato anche una riflessione seria e rapida sul finanziamento di una serie di misure a sostegno della cultura e delle arti. Contestualmente, oltre ai protocolli di sicurezza già definiti dal governo e sui quali c'è il tempo per tutti i possibili miglioramenti, la regione farà partire un censimento degli spazi aperti che, offerti gratuitamente, potranno ospitare spettacoli e manifestazioni culturali già quest'estate, compatibilmente con il monitoraggio sanitario e l'applicazione dei protocolli. Le leggi regionali per il cinema saranno rifinanziate, un supporto importante potrà dare al settore anche il progetto sulla digitalizzazione e la creazione di una piattaforma digitale unica per la campagna. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi aggiornamenti di pari passo con il lavoro avviato dagli uffici.